La caduta delle restrizioni sanitarie ha permesso anche il ritorno dei raduni di auto storiche. Avvigevano decine di curiosi e hanno accompagnato la sfilata in piazza ducale delle vetture del Memorial D'Ambrosio. Auto di varie epoche provenienze dalle americane Pontiac fino all'italianissime Ritmo, con la particolare chicca della Fiat 130 che venne utilizzata da Aldo Moro. Oggi è un raduno dedicato a Francesco D'Ambrosio, un nostro caro amico che è mancato nel 2010, aveva 27 anni e come ogni anno noi convogliamo tutte le nostre energie in questo raduno perché ci teniamo a ricordarlo. Oggi sono presenti parecchi amici, parecchie persone che arrivano da diverse regioni per raccogliersi e ricordare questa persona. Sono auto di tutti i generi, tra l'altro Francesco era amante anche della Fiat Ritmo e noi nel 2011 abbiamo fondato il Fiat Ritmo Club Italia, che è un club nazionale che avvicina tutte le Fiat Ritmo. Oggi c'è la Fiat 130 di Aldo Moro, che è molto particolare come mezzo, dato anche alla storia che ha, e poi la Fiat 1 che era appunto di questo ragazzo che i genitori ci hanno donato e noi la conserviamo per utilizzarla in questo Memorial. Grazie. Grazie. Grazie.